carissimi ma soprattutto carissime bentornati qui su 80 passione mamma mia che sofferenza non so voi ma è la stessa situazione che si ripete tutto l'anno o l'inter è davanti di tre gol 3 a 0 altrimenti non riesce a gestire le partite neanche un 2 a 0 perché ok l'1 a 0 è ancora ancora cortomuso ma sul 2 a 0 io vorrei sapere una cosa gli attaccanti dell'inter geco si è dimenticato come segnare no perché lì proprio dopo cinque minuti del secondo tempo facevi il 3 a 0 e la partita la mettevamo in ghiaccio era ammazzata invece no abbiamo dovuto soffrire tutti gli ultimi 20 minuti più i 5 di recupero simon inzaghi che ha recuperato il capitan samir andanovic andanovic che oggi ha giocato molto bene ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto il suo e anche su god l'udinese aveva salvato una punizione all'incrocio di defleu come cavolo si chiama ex milan si vede che milanista voleva tanto oggi fermare l'inter mi dispiace oggi vorrei solo sapere se da qui alla fine del campionato tutte le squadre daranno battaglia e daranno l'anima come l'udinese perché ieri ho visto una partita di tennis dopo 18 minuti il napoli vinceva 4 a 0 contro il sassuolo il milan quell'ultima partita andranno in vacanza con l'ombrellone con le bibite perché quella sono tre punti assicurati arrivati a questo praticamente siamo a tre giri finali perché sono le ultime tre partite io non so davvero con chi il milan possa perdere la trasferta di verona in casa con l'atalanta che oramai è in pantofole ho già citato il sassuolo purtroppo dovremo fare un mea culpa ci siamo suicidati più volte durante questo campionato e alla fine il milan è là a un portiere straordinario che tutti parlano infatti anche quando ci sono manchester city real madrid ma secondo ci siamo dimenticati che il segreto del milan è proprio magnan e tomori e calulu perché non passa niente ritornando alla partita dell'inter alla fine simoninzaghi oggi ha avuto ragione perché nel momento in cui non hai cialanoglu secondo me ha avuto significato mettere di marco perché era l'unico che poteva su un calcio d'angolo un calcio di punizione una palla inattiva e infatti proprio dal suo piede mancino è partito l'angolo da cui l'inter è passato in vantaggio al dodicesimo perisic che stacca sul primo palo e insacca abbiamo sfatato un altro tabù io mi sono toccato perché quest'anno ogni volta che siamo passati in vantaggio con perisic contro lazio milan e bologna poi abbiamo perso e fortunatamente la cabala non si è ripetuta l'udinese poteva subito pareggiare un tiro da fuori aria andanovic è stato bravo a neutralizzare anche poi dopo un'azione sulla sinistra palla sul centro verso pererea che è stato anticipato sempre da di marco quindi di marco è stato fondamentale sia per l'assist a perisic credo settimo gol in serie a quest'anno per il nostro ivan il terribile croato che ha 33 anni ma che è stato anche oggi il migliore in campo proprio per abnegazione qualità quantità correva come un treno e anche alla fine quando purtroppo si è fatto male barella speriamo che non sia niente di grave stava lui per uscire per far dare il posto a gossez invece è rimasto in campo è entrato vecino e voi non potete immaginare mi sono fatto sette volte il segno della croce dopodiché l'inter gli attaccanti non c'è quella cattiveria non riescono 1-2 Lautaro e Dzeko io continuo a ripetere secondo me è una coppia male assortita comunque sia c'è stata una ripartenza Gagliardini ha dato una grande palla a Barella che di prima un assist no look per Lautaro a che ha tentato uno scavino fermato da Silvestri poi è arrivato Dzeko io vorrei sapere una cosa l'arbitro Kifi era là là proprio ce l'aveva a un metro se non fischi quel rigore a velocità normale quando stai in campo ma allora non è i complotti o quant'altro significa che sei scarso poi l'ha stato richiamato al VAR l'ha andata a vedere ci sono anche i commentatori inglesi che sono imparziali non gliene frega niente stanno lì con una bella tazza di tè perché io mi vedo tutte le partite su BT Sport e anche lui ha detto ma lo tocca lo tocca e rigore anche sul calcio di rigore da Cardiopalma perché Lautaro Martinez che continua a ripetere non è un rigorista implacabile non è un cecchino dagli 11 metri tira la palla sbatte sul paro e fortunatamente tocca la mano di Silvestri quindi ritorna in gioco e lui può insaccare di testa perché se non l'avesse toccata il portiere dell'Udinese il gol era da annullare si va a riposo la squadra Sivorizzaghi non la cambia ne ho dette sempre 101 contro Gagliardini almeno oggi per l'impegno lui che sostituiva Celanoglu ha fatto il suo però poi dopo ripeto scrigna va a fare un fallo sciocco al limite dell'aria da lì scaturisce la punizione De Feleu la mette praticamente sotto l'incrocio Andanovic vola poi dopo una palla messa al centro il proprio Pussetto che aveva sostituito Success che aveva chiesto il cambio un problema muscolare l'ha messa, l'ha infilata quindi il pubblico di casa che poi dopo gridava siete come la Juve, rubate oramai non so perché tutta Italia, tutte le tifoserie se il Milan vince questo scudetto è lo scudetto dei giusti dei, non lo so, Robin Hood di coloro che danno sempre le offerte alla chiesa di coloro che sono bravi padre Pioli se lo vince l'Inter è uno scudetto del complotto del VAR degli aiutini oggi non lo so anche quel passaggio di Terracciano non so, il portiere della Fiorentina giocava per il Milan o per la Fiorentina? perché non lo so onestamente un pochettino mi lascia perplesso poi anche sul suo palo un tiro non irresistibile vabbè comunque il Milan sta là prima in classifica è riuscito come aveva detto Pioli le aveva fatto la domanda Franco Ordine in conferenza stampa che cosa deve succedere perché il Milan possa vincere lo scudetto tutto quello che non è successo fino alla penultima giornata e si sta verificando a questo punto il Milan ha l'85% ha lo scudetto in tasca perché secondo me con le squadre che sono rimaste sono squadre che lasciano troppe praterie ma già ragione il Milan ha due partite fuori casa non posso immaginare il Verona il Milan è una squadra che fuori casa va a nozze è l'ultima in casa contro l'Atalanta non so davvero oramai un Atalanta irriconoscibile credo che non gli refreghi neanche niente di entrare in Europa League e adesso vediamo quello che succede perché due squadre Venezia e Genova sono praticamente secondo me quasi matematicamente in serie B ma il Cagliari quando anche noi giocheremo a Cagliari vediamo che succede adesso domani l'Atalanta si riesce a battere la Salernitana e poi la prossima credo sia proprio Salernitana Cagliari quindi congratulazioni ai rossoneri che all'85% hanno vinto lo scudetto ma alla fine se ci dobbiamo mangiare le mani e ci dobbiamo incavolare e soltanto con noi stessi perché abbiamo buttato almeno fino adesso nel cesso uno scudetto che era più facile perderlo che vincerlo con questo è tutto sono un pochettino così adirato perché ripeto anche oggi non ho visto quella cattiveria necessaria se si voleva vincere lo scudetto poi la gente mi chiede perché preferivi Conte a Simone Inzaghi non ce l'ho con Simone Inzaghi però alla fine sono quei piccoli dettagli quella voglia soprattutto di arrivare prima dell'avversario abbiamo preso troppi calci tutto il campionato anche quando si mette sul temperamento sembriamo un pochettino troppo che ci guardiamo allo specchio e questi sono i risultati perché a meno che tu non sia il Barcellona o il Manchester City solo in quel il Barcellona di Messi Xavi e Niesta altrimenti col gioco purtroppo nello sport ma anche nella vita puoi essere bravo ti puoi impegnare ma se non arrivano i risultati alla fine rimani con un pugno di mosca in mano vediamo quello che succede l'Inter ritorna in campo venerdì contro l'Empoli che ho già perso due giocatori espulsi mi raccomando parata del complotto quindi anche Pinamonti ho visto che ex Inter qualcuno ha detto ma che schifo questo e quest'altro tutto quello che fa parte del mondo Inter è uno schifo quello che invece fa parte per le altre squadre va bene se tutta Italia vuole la vittoria del Milan che ben venga vincete lo scudetto festeggiate e niente godete però con questo è tutto ci risentiamo alla prossima ciao